scusai ma se registriamo con quella roba qua non possiamo fare il video ma sai che possiamo fare il video? ma io ce li ho tutti i video di sta roba qua e cosa si vede? e quello che tu vedi lì? quello che tu vedi nella preview? e quella merda lì? con i francobolli? adesso l'ho fatto verticale così lo usiamo per instagram o per tiktok ma con quei tre francobolli di merda lì? tutto lo sfondo? ma è verticale? tiktok dopo è verticale devo tagliarlo devo tagliarlo in verticale se li metto orizzontali come l'altra volta ma è piccolo figa ma è un francobollo e ho capito ma tiktok è verticale? non posso ma la c'è stare verticale cristo ma è piccolo e ho capito non è mica colpa mia e certo che non è colpa tua è colpa del software di merda che ci fai usare ma scusa perché se lo fai in google meet io lo posso mettere anche orizzontale ma dopo in tiktok me lo metto no ma devi metterlo full screen tutto quel giallo lì di merda ma no quello lì lo taglio dopo eh no no non fare caso al giallo ai lati tu prendi solo la parte centrale io dopo ritaglio e viene fuori solo la parte centrale quindi noi siamo più grandi faccio per l'ennesima volta l'errore di fidarmi di te giusto per poterti poi insultare max ci sei? perché siamo così e non in orizzontale? no via allora perché dopo lo ritaglio in verticale in 9 sedicesime lo mettiamo su tiktok e su youtube così è una merda comunque ma vabbè eh no allora no ok se tu lo vuoi su youtube sì così è una merda dimmi tu però se lo vuoi su youtube o su tiktok tutte e due già stupiscici però cioè così sapevamo farlo anche noi di prendere due versioni no allora se vuoi fare la doppia versione dovrei farlo in orizzontale e poi però in tiktok quando ce l'hai in mano devi girare il telefono no 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 eh no tu hai visto? facci sentire l'audio prima di registrare però mandaci una campionatura non mi fido io campionatura? va bene quello che stiamo dicendo che ci sarà tu che urli noi parto con la campionatura 1 già mi hai rotto il cazzo con questi microfoni di merda hai speso 5000 euro per quei rode lì che funzionano come quelli della ceci delle lollipops perfetto non riesci a mandare un cazzo di vocale con l'iphone figa guarda sono qua nel traffico mi sta salendo un nervoso in corsi caticolico di botte mentre dormi poi non tornare a casa a lamentarti finisce schifio finisce schifio te lo dico ciao campionatura 2 Giovanni hai rotto il cazzo con i tuoi appuntamenti fasuli di merda che hai speso 5000 euro per quella macchina lì a batteria e poi sei sempre in ritardo non riesci a mandare un cazzo di link con google guarda sono qua senza traffico sul treno con la bicicletta mi sta salendo un nervoso che dopo che fai la mezza di Burgano Grasso alla Berlino-Cupenaghen ti scambio i tappini delle camere d'aria e dopo non andare da Max a lamentarti guarda che finisci come in Liguria con la guida in after dalla sera prima te lo dico io te lo dico si sentiva bene? mi stessa perfetto bravo Giampa a posto a posto io non ho più nulla da dire ciao ciao ti scoccio se salti a vi conveni vuoi che io vorrei andare a dormire dentro le 7 e un quarto ma come mai sei stanco Giovanni cosa hai fatto? come manca avessi fatto una maratona vi ascolto cosa che lì te? due fette di bresaula e lattuga devo stare leggero perché sono salito di qualche chiletto l'immagino sei tutto ciccio e brufoli bravo si vede che sei degli anni 80 racconta Giovanni racconta sono un po' stanco ti dico la verità per avere la voglia di raccontare la mia giornata di ieri alla Forrest Gump sono un po' stanchino mi sento un po' stanchino ma allora poi dopo la prossima puntata faccio Giovanni scusa però sposta il monitor abbassalo lo schermo così ci si vede la fa eh oh ecco bravo prossima puntata mentre Fredda faccio il racconto completo il racconto breve è glitch glitch non mi ha fatto apposta e ho comprato ho comprato l'effetto apposta su internet glitch apposta il racconto breve è che è stata non ero giornata no senza nessun motivo apparente nel senso che era tutto pettinato apparecchiato bene ma ho fatto più fatica del dovuto per andare più lento del previsto quindi il riassunto è brevemente quello dovevo fare 3,50 ho fatto 4,24 riguarda poi non mi ricordo neanche più perché c'è dei buchi di memoria riguardando poi i tempi eh dal diciottesimo in poi crollo graduale fino fino a all'arrivo però vabbè l'obiettivo minimo era portarla a casa lo portarla a casa eh ero partito con quell'idea lì poi mi ero illuso di poter anche farla benino e quindi sono tornato l'obiettivo iniziale ma va bene così le due ira le due ira ecco eh chiudo dicendo grande differenza tra la Gran Fondo e le Maratone dicendo cittadine e con un tragitto evidentemente più corto il pubblico è un tema fighissimo quello veramente bello eh basta a cui hai dato 5 a tutti quanti ho dato dei bei cinquoni sì 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 dei bei cinquoni con le mani pulite sì sì bravo bravo ma comunque bravo nel senso fare una maratona non è banale cioè no no ma guarda l'inverno di pianta non è tanto il tempo ma mi ero detto la faccio un pelino più piano perché voglio godermela a pieno no quindi magari sacrifico anche 5-10 minuti ma me la godo arrivo fresco magari con gli ultimi due chilometri anche con un minimo di progressione invece ho analettato ma non ma ho sofferto tutto il tempo quindi il dispiacere non è esserla goduta ecco mi è stato proprio un lungo calvario perché ho capito dopo due chilometri che sarebbe stata una giornata del merda perché all'inizio nel traffico quando andavamo pianissimo avevo comunque il cuore alto quindi ho detto aia non è giornata e così è stato perché la giornata può girare quando non ti sale il cuore quindi non ti sale il cuore e dici minchia oggi non vado però magari dopo un po' ti comincia a salire invece di proprio c'avevo il cuore alto e le gambe non giravano quindi c'era qualcosa che non andava ho mandato i tracciati a Bruno dato che ci studia ma non era l'abbigliamento mi hai mandato un messaggio ci siamo sentiti qualche giorno prima dicendo che eri insicuro su che cosa mettere Gian lo rispondi tu con la ciotola del dicevo che l'abbiamo perso è sparito è sparito io però scusa faccio un inciso è tornato è tornato no l'abbigliamento era giusto non faceva freddo quindi non faceva freddo ma non è che hai preso freddo al pancino no niente no 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 lo dico sempre a mio figlio copriti bene che sennò prendi freddo al pancino era tutto era tutto a posto quindi boh semplicemente giornata no non so sincero anche Bruno gli ho detto ho dormito male due notti in albergo mi fa ma no non è possibile che sia stato quello perché non è sufficiente per giustificare una prestazione così rispetto ai tempi che avevo in allenamento ecco ma scusa Gio non può essere per esempio anche cioè comunque tutta la pressione della preparazione quello sicuramente perché l'inizio numero uno è forse sono arrivato sovrallenato tra virgolette quindi stanco uno che fa ho un amico che fa le robe da matto i 300 km di corsa in montagna che l'ho incrociato in questi mesi sull'unica strada dove si può correre a Como che è la Como Cernobbio e poi mi aveva whatsappato un po' di volte e mi aveva detto devi arrivare che hai una voglia della madonna di correre e devi pensare a divertirti e lui dice io l'ultima settimana prima degli eventi non corro neanche un minuto perché così almeno mi monta la voglia proprio tipo d'astinenza invece ti dico la verità ed è forse uno dei momenti non avevo voglia cioè non che non avessi voglia sono arrivato che non è proprio sbavavo ho detto e minchia ormai la devo fare però non è che non vedevo l'ora di correre e forse quello sì un allenamento troppo per le mie abitudini ho dedicato troppo tempo e quindi sono arrivato un po' scarico troppo tempo mentale quindi no aperitivi no cene con gli amici no domeniche diverse dall'allenamento forse è stato un po' quello non lo so tant'è che una delle ipotesi è che la prossima la faccio alla cazzo potrei scusa la prossima intendi la prossima gara o prossima maratona o prossima corsa o prossima no l'idea è allora prima di tutto come sempre non si fanno non si prendono decisioni a caldo ma potrebbe essere che faccio Milano che tra l'altro è quella che mi era saltata per il covid quindi non è impegnativa per il viaggio non è impegnativa dal punto di vista economico non è impegnativa da nessun punto di vista ma la faccio andando in bici prima corricchiando poi magari toglie ultime due settim- no non è vero faccio un paio di lunghi fatti giusti nel momento giusto ma non dedico quattro mesi solo a quello no perché credo che se arrivo in condizioni decenti anche se sono un elemento specifico e va tutto bene faccio comunque un tempo migliore di quello che ho fatto ieri potrebbe essere un'idea però vediamo dai l'importante era mettere la bandierina l'ho messa veramente il dispiacere non è tanto il tempo ma l'avrei fatto troppa 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 fatica minchia una roba da incubo proprio da incubo però io quando sentivo i tuoi livelli di allenamento lo sforzo che ci stai mettendo l'impegno mi è sorto quel dubbio però il mio dubbio che se dovessi dedicare tutto quel tempo per un evento arriverei alla fine stremato da tutta la preparazione tutto l'impegno e quasi perderei la gioia proprio quello che hai detto esattamente di arrivare mi immagino cioè penso alle piccole mie cose che ho fatto e mai sono arrivato a una programmazione così metodologica rispetto ai tempi era più una sensazione di come stavo andando magari guardando qualche numero su Strava magari guardando qualche performance in più o sensazioni che mi dessero la convinzione di riuscire a portare a casa la gran fondo o l'evento o hai la testa di Gian o se no esatto devi avere la testa la predisposizione per arrivare ma anche la libertà di poter fare un po' quel cazzo che vuoi nel senso noi che lavoriamo e che abbiamo degli impegni sai che poi sotto pressione non rendiamo c'è chi ha la libertà di fare quello che vuole e anche di potersi allenare e quindi riesce a gestirsi se facessi solo quello come il Gian anche io magari riuscirei a fare delle performance come nessuno ah no ah no comunque tra le ipotesi più indiziate è esattamente quella se Giovanni lanci un pezzo nella seconda parte vi dico il segreto poi per arrivare a far solo quello senza dover lavorare allora il segreto è trovare un lavoro alla propria moglie in un'altra città bravo giusto e contornarsi di babysitter e di gente che ti dà una mano che ti cucina questi ti chiamano i ricchi i nuovi ricchi i nuovi smart esatto la smart life no io però aspetta ho una domanda perché qua stiamo tralasciando però un dettaglio tu Joe non eri solo se non ricordo male giusto? no c'era Bubo che mi ha fatto i tre di quindici insieme ciao Nina no raccontaci di Bubo va eh vabbè non è che ci si tanto raccontare Bubo l'ha fatta esattamente come andava fatta l'ha fatta esattamente a 5.30 al minuto quindi è fatto proprio perfetto adesso non so al tempo finale ma ho visto Strava a 5.30 poi sai che oramai non li guardiamo neanche più i tempi ufficiali no? c'abbiamo Strava guardiamo quello e non so neanche quale sia stato il tempo proprio del crono però noi c'eravamo andati come obiettivo correre a 5.30 quindi l'ha fatta molto bene perché noi ci siamo lasciati al quattordicesimo che secondo me stavamo andando a 5.38 e quindi poi lui ha anche guadagnato qualcosa quindi ha fatto tutta la seconda parte tra i 5.20 5.30 bravo e tra l'altro vedi lui l'ultimo mese praticamente non si è allenato perché ha avuto problemi all'anca quindi ha fatto un po' di rulli un po' di roba così ma lui dopo il lungo dei 35 lo abbiamo fatto esattamente un mese prima non ha più corso se non 4-5 chilometri quindi da un certo punto di vista magari è arrivato anche più riposato è anche da dire che lui era molto più portato di me quindi anche negli allenamenti pre-infortunio andava più forte di me però secondo me da un certo punto di vista il riposo dell'infortunio lo ha ricaricato dopodiché vabbè prima che lo dica Max c'era un po' di glitch però non si è comparso non so come mai ci scusiamo con i nostri ascoltatori ma sono abituati a un audio di merda prima parte perfetta ragazzi prima parte perfetta no adesso appunto invece il contorno di tutto quello che era la maratona cioè maratona il contorno oh Gian ecco uno come te che si prende bene con poco quando vedrà perché Bubo in tutto questo correva con il mano la gopro che cosa che piuttosto io non la facevo ma lui l'ha fatto ci sono stati ci sono il pubblico è incredibile tu fai 42 km tra due ali di folla con un concerto ogni km e quando vabbè chiaramente quando uscivi un po' il periferio un po' meno ma in centro città c'erano proprio le transenne come al giro d'Italia quelle inclinate in diagonale con doppia fila di gente che è lì e poi avevi il nome sul pettorale e quindi la gente ti chiamava per nome dai dai Gio 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 dicevano cosa che mi dicevano Ale Ale animo animo due chilometri mass chiamandoti per nome incredibile e ti dico che al cartello dei 40 chilometri che c'era proprio il DJ con la discoteca tutta la gente che ballava c'è da da lacrime quello è quello è stato la cosa più proprio per distacco più bella dell'evento la partecipazione del pubblico e poi noi ciclisti che siamo abituati a prendere insulti a destra e manca devo dire un po' diverso e tieni presente che hanno paralizzato la città nel vero senso della parola cioè non andavano i bus cioè hanno fermato i bus non c'erano i taxi solo metropolitana fino alle 3 di pomeriggio quindi anche problemi arrivare in partenza è stato l'unico l'unica pecca non si capiva tanto come muoversi in città anche per arrivare all'evento però tutto il resto incredibile sai Joe cosa mi ricorda quella quella quell'esperienza esatto la Prudential quando tra due ali di folla vaffanculo al traffico vaffanculo alle auto c'era tutta la città chiusa praticamente per farci passare e anche nei paesini c'erano le bande c'erano i bambini per strada che ti davano il 5 quando passavi ed era esattamente così tieni presente che Valencia aveva questo weekend l'85% di occupazione alberghiera per la maratona che sono i temi e ricordiamo al pubblico che la Prudential Ride London è la gran fondo più seguita dai ciclisti nel senso che ci sono 70.000 ciclisti tra due giornate se non si è prima di ora non mi ricordavo un numero di pazzo che partecipano alla gran fondo o girano per la città in bicicletta adesso andremo a fare fact checking ma quelli erano i numeri di quando andavamo noi pur essendo una gran fondo obiettivamente in sé non granché no con il rischio di beccarsi l'acqua ovviamente per cui quando la facemmo noi prendemmo delle giornate eccezionali con sole nuvole tu l'hai fatta due volte? una volta solo tu l'hai fatta due volte sì l'ho fatta forse l'avevo già fatta l'anno prima di te ah perché hai stoppato? no dopo tagli dicevamo non lo so cosa dicevamo Gian ho perso il profilo ti ho spezzato il pathos no benvenuto in mente però una cosa Gio ma adesso la beh chiaro la parentesi è forse riduttivo perché comunque l'anno sabbatico sul running cioè tra l'altro siamo a dicembre tu lo vedi concluso oppure l'anno prossimo vabbè hai detto che vorresti provare qualcosa però senza impegno che però è appunto no ho voglia di pedalare ho voglia di pedalare quindi ripeto potrei ma anche per quel motivo dire faccio Milano però utilizzando cioè il running è l'allenamento di backup quindi mi alleno in bici corricchi un po' e provo ad andare a farla a Milano sapendo anche mentalmente che a Milano se anche a chilometro 5 mi ritiro prendo la metropolitana torno all'arrivo ritiro il mio sacchetto e vado a farmi un McDonald's senza grossi problemi ricordando tra l'altro che le mie gran fondo migliori le ho fatte da non allenato arrivando scazzato bevendo tre birre medie la sera prima e non pensando a quello che avrei dovuto fare il giorno dopo quindi probabilmente c'è anche un piccolo io ho la mezza idea che il mio corpo che ha preso su qualche gran fondo veramente delle legnate pazzesche entra in protezione quando sa che deve far fatica nelle grandi eventi e quindi fai qualcosa che non fai soffrire più che il corpo mi permetto di dire esatto è la testa è la testa che fa la differenza cioè se non sei libero dai pensieri se non hai il timore di dover soffrire se arrivi appesantito dagli impegni da un allenamento troppo stressante poi non riesci a performare o quantomeno a divertirti quindi che è il nostro tema che è forse la stessa cosa che è forse la stessa cosa un po' più di maritozzi e meno gel sì due birrette in più anche la sera prima che dormi bene e via adesso bisogna trovare le quindie esatto invece Gian lasciamo il terzo pezzo a dopo ti aspetta con che cosa ma ha rovinato l'attacco ma quel lì è sempre è sempre rifallo rifallo allora qualcuno una volta ha detto non si butta via niente no in realtà cosa importantissima perché qui allora intanto è passato un mese passa io sono ancora sul teide con le braccia aperte e insomma ah bravo giusto aggiornarci anche su quello tendenzialmente è finita schifio cioè non c'è più diventerà un album dei ricordi profilo instagram bklk no dai io sono fiducioso beh speriamo anche te sei così negativo no no anch'io sono fiducioso però sinceramente io non ho messo la testa perché ho detto uno è webmaster l'altro è content creator ho detto ci penseranno loro a risolvere la situazione sai è come quando devi tirare su una casa e dici ho lì i moratori perfetti per fare un grandissimo lavoro io che non ne capisco tanto sto fuori e invece e invece scusa faccio un attimo adesso coppia con Giovanni e mi viene da dire Gio se è fallito tu che sei web designer io che sono videocreator ci vorrebbe un responsabile dell'innovazione di un polo di start up no no sarebbe perfetto infatti è arrivato cosa ha fatto pim pum pam e il tiktok ha messo sul tiktok allora no pim pum pam mi ha fatto scrivere da suo figlio che mi ha trattato come se fosse un coglione solo per il fatto che lui è un teenager io sono un signore oramai un millennial sei un millennial ma ha fatto le tre domande quelle che fanno di base i servizi quelli di supporto hai acceso il computer hai schiacciato hai inserito il cdrom non so perché era così prevenuto nei tuoi confronti io non ho detto solo due cosine c due punti slash slash vabbè comunque mi ha detto preoccupato ma non passate più non ci sono più stories come mai e Gian e Gian nonostante questo sta bene no allora il discorso poi è stato che appunto profilo BKLK Instagram è lì fermo bloccato quindi in preda al fatto che quello lì aveva una maratona Max un po' così che non si capiva già non si capiva prima dove andava cosa faceva adesso proprio non si avevano notizie io è vero che sono nel periodo di scarico però ragazzi cioè comunque devo iniziare a raccontare su cosa si sta facendo quant'altro ho in casa una situazione particolare con una futura triatleta insomma è un peccato non condividere tutte queste cose non dimenticarti un elemento io avevo in canna un video spettacolare deciso deciso per TikTok beh che è arrivato al momento giusto cioè 700 views io invito tutti andare a profilo TikTok quindi abbiamo aperto TikTok giusto? giusto ok l'innovation manager ci ha pensato lui esatto l'indirizzo vogliamo dirlo c'è un indirizzo? sì bike like Laker BKLK basta cercare ci trovate facilissimamente per cui io mi spiace per chi magari non ha ancora TikTok o pensava di non farlo però prossimamente quello sarà diciamo la valvola di sfogo il modo dove seguirci tra l'altro io non ho ancora per questioni di tempo postato nulla mi sono fatto una scaletta non sei credibile perché che tu abbia problemi di tempo non ci crede nessuno no Giovanni potrei chi vuole farlo bene Giovanni come i nostri bravo bravo no e poi non volevo accavallare la race cross Italy con la Corsica con la Maratona quindi io questo weekend qui ho detto beh no quello lì sta facendo una Maratona figurati non metto su una roba ci sono tre post dove uno ho capito alla decima volta che stavi inquadrando i nomi scritti in font 3 di tutti gli iscritti l'ho capito dopo quattro volte come le tap Max è vero quello è iconico Gian tu che dovevi inquadrare due nomi per scegliere esatto bravo o io o l'altro le manifestazioni che fai esatto non hai mai provato la sensazione esatto tra l'altro dopo la cartella il codice fiscale anche di tutti esatto dopo ne ho una dire che Giovanni si incazzerà come una Iena comunque me la tengo per ultima e no e poi c'è il video di quando siete scesi dall'aereo che mi sta bene lì ho detto vai ok inizia il racconto ci saranno un po' di aggiornamenti basta non c'è mezza clip di quando stavate correndo che ne so mi sento male ho mangiato una banana ho mangiato una fajitas sto per andare a mangiare la paella niente figa Gio dai lì un po' allora no Bubo ha corso con la webcam con la gopro quindi dopo vi faccio dare un po' di contenuti eh perché a Bubo l'ho preallertato io prima che voi partiste perché io giovedì scorso mercoledì scorso non mi ricordo gli ho scritto e gli ho detto per favore gli ho detto oltre a tenere d'occhio quell'altro mi raccomando fai dei contenuti fai degli audio poi mandameli vedi un attimino che poi anzi io ti vorrei anche nel podcast poi vabbè il podcast non siamo riusciti infatti mi si aspettava di essere invitato probabilmente l'hai offeso no ma guarda facciamo facciamo subito Max questa è una preview anche se è una pre-sound di quello che potete trovare chissà cosa c'era sotto il Santini chissà cosa c'era sotto facciamo facciamo che facciamo che la gente andrà su su tiktok per vedere faccio il tentativo io provo live a invitare buvo vediamo se risponde all'appello ritmo qui è spacchiamo qui c'è del ritmo hanno spento la macchina in sei in questo momento e hanno girato su radio dj tutti quanti come direbbe il buon linus allora vediamo li sto scrivendo lo sto prestando li sto facendo pressione vediamo se vediamo se si collega e ho un video dopo lo butto su il video del del chilometro 30 dove mi fermo ad abbracciare la ceci per raccattare un po' di energie quello su voi dopo te lo butto su va bene va bene va bene attenzione 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 che penso stia per arrivare aspetta che qui vi devo ricordare come come si fa per aggiungere una persona in più in verticale tra l'altro aspetta fermati fermati i francobolli delle nostre facce adesso perché siamo in verticale giovanni aspetta che mi ricordo più come si fa mi sono emozionato non mi ricordo più come si fa qui a aggiungere una persona altronde non fai questo di mestiere per cui vediamo aspetta guest 4 Bubo tu ci senti si si ti sento ok aspetta perché credo che tu non sia ancora dentro la live dammi un secondo Bubo Bubo si è collegato Bubo Bubo che è il 50% di quello che è la maratona di Valencia come stai Bubo? bene tutto a posto ciao ragazzi che bello essere qua con voi diciamo che il 50% è fin troppo perché l'esame che ho addosso con tutto quello che abbiamo vissuto io e Joe è il risultato che facciamo almeno per quanto riguarda me fatica addirittura a deambulare neanche a camminare ragazzi faccio fatica a vivere siate usciti da una battaglia non benissimo però era un evento gioioso di festa però bello bello un evento notevole ma la gara in sé com'è andata Bubo? la gara è stata diciamo molto positiva per quello che riguarda me per il discorso delle mie aspettative perché ho avuto nell'ultimo mesetto un problema però diciamo che con il nostro buon Bruno non ho mai mollato e siamo riusciti assolutamente a finirla e sono contento perché diciamo che la gran parte di quello che abbiamo vissuto è sicuramente grazie a tutto il tifo che c'è a ogni rondò ogni 400 500 metri ragazzi c'è un'esultanza da parte della popolazione locale non penso perché attira talmente tante persone questo questo evento che ti dà proprio la forza per trovare delle nuove energie ma quindi sei rimasto comunque soddisfatto di come è andato tutto cioè l'esperienza in sé andare a Valenza a fare la maratona è una cosa sicuramente da ripetere perché ne parlavo anche è talmente a caldo adesso ne parlavo anche con la famiglia perché vivere un'esperienza in un periodo che qui da noi fa già abbastanza insomma freddino giù un po' di gradi in più non non sono per niente male ci siamo organizzati per correre con diciamo gli ultimi elementi che facevamo un mese qua un mese che è più piacevole che correre col freddo è stata bellissima e poi tutta la trasferta in sé poi averlo fatto con giochi scusa Gianni ha gliciato ha gliciato Bubo si guarda io stavo pensando in questo istante proprio che forse Bubo sei l'ospite che si è mai sentito meglio in assoluto tornando al contenuto Bubo ma per te era la prima maratona o no? prima maratona non ho mai fatto corsa se non durante le regole del calcio nel mio passato e ho iniziato quest'anno così grazie a il correre insieme a Gio che abbiamo iniziato grazie insieme e basta nonostante nonostante Giovanni e quindi è stata un'esperienza completamente nuova un'esperienza che non avevi mai vissuto e quindi non avevi consapevolezza o meglio qualcuno ti ha detto che cosa aspettarti come ti sei preparato oltre che con Bruno cioè che percorso hai fatto sei arrivato rilassato teso perché prima abbiamo parlato un po' di testa di come gestirsi scusa Giovanni prego aggiungo io delle risposte alle tue domande prima che le faccia lui Luigi Intoni che le aveva uti e questa è la differenza ecco era uno dei stimi no diciamo che il 90% l'ha fatto Bruno perché una percentuale così alta la do alle tabelle di Bruno perché iniziare uno sport del genere senza essere seguito è sicuramente complicato il resto letture online qualche libro sotto l'ombrerone questa estate e poi tutta testa è veramente durante la corsa suddividi in base a come ti senti e poi diciamo che quando arrivi alla parte finale e cominci a mancare magari chilometri non più in doppia cifra ti senti già ti senti già meglio questo è quello che ho vissuto che ho vissuto ieri poi vi ripeto il pubblico ne parlavo anche con gli amici con cui l'abbiamo fatta al quarantesimo vieni avvolto dal pubblico che ti trascinano fino all'arrivo perché una fiumana di gente con una carica poi avevamo un nome io sul mio pettorale ho il mio famoso soprannome Bubo e in spagnolo deve essere che piace questo soprannome Bubo e continuavano vamos Bubo vamos Bubo ragazzi andale Bubo andale yepa yepa troppo forte comunque bello bellissima esperienza e sicuramente magari ce ne staranno delle altre adesso per come sono le mie gambe e come sto fisicamente ragazzi la maratona non è proprio nelle prossime appuntamenti però bello veramente stupendo ma invece scusami per te la parentesi corsa continuerà pensi nel 2023 o sì sicuramente sì perché da quando ho iniziato a correre mi sento sicuramente meglio incastrarla con gli impegni quotidiani che abbiamo tutti si riesce perché la corsa ha sicuramente scusa Bubo abbiamo tutti e tre gli impegni uno no 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 noi tre scusa Bubo perché tu non hai seguito il primo segmento probabilmente del podcast dove io ho detto il segreto per smarcarsi dagli impegni e poter fare un po' quel che vuoi quindi dopo ti invito a riascoltare il primo segmento dove cioè è la chiave è la chiave in realtà scusate te Gian quello lì della moglie all'estero è già una chiave però il vero segreto tuo è fare lo spallone delle stecche di Malboro e quindi poi non fare un cazzo porti porti due giri di Malboro di notte con il trabandiere e poi di giorno pedale questa mi mancava col drone tra l'altro bravo questo mi mancava non ci avevo pensato no quindi sì tu scusami quanti allenamenti facevi a settimana poi Bubu per dai le tabelle di Bruno erano cinque nelle medie settimana però in realtà le corse sono da tre massimo massimo quattro in periodo di forte carico si corre per preparare una maratona del genere dai 60 ai 70 km a settimana e poi nell'ultimo mese che è quello che diciamo è stato tutto nuovo si attende questo periodo di scarico per arrivare poi alla gara però ti ripeto dai tre ai quattro allenamenti a settimana io suggerirei che Bubu scelga un pezzo da e questo è un errore perché è un errore per te magari ma va bene scusami Gian devo riconoscere che nell'ultimo giro Gio ha tirato fuori delle chicche che hanno emozionato non mi ricordo già più il nome di quella canzone del film però era veramente bellissima pensa Max solo alla quattordicesima puntata che fortuna si è scaldato era consequence dei knot twist direttamente preso dalla colonna sonora gli chiedimi se sono felici tu la conosci Claudia e di Aldo Giovanni Giacomo vai pausa pezzo dopo ritorniamo con l'ultimo segmento ciao Bubu pezzo non è quello è pezzo di Bubu ciao Bubu allora parto così con la registrazione perché in realtà il fuori onda stava diventando più figo di quello che stavamo dicendo in onda è incredibile Max se tu noti che Giovanni dall'inizio della registrazione ha avuto proprio l'audio è andato calando cioè siamo allo schifo totale in questo momento c'è un eco pazzesco sembra entrato in chiesa già ne è un po' lo stress lo stress fisico ma guardalo 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 così va bene ma rispondete voi da casa così va bene dov'è che lo teneva il mio è molto meglio il problema è che se adesso così non va bene eh no Giovanni eh no Giovanni cioè è come se così va bene così va bene così va bene eh no Giovanni così va bene così va bene così va bene adesso te lo dico io Bubo quello là voleva fare l'effetto surround ma gli è venuto malissimo vabbè vabbè è come quando lo appoggi con delicatezza più ti avvicini più va meglio rimaniamo sul pezzo rimaniamo sul pezzo hai visto guarda che anche la divisione qua delle persone cioè non è a caso è sotto i seri sopra gli sfasciati dove c'è la foto col gin tonic da un litro no io ho una curiosità Bubo scusami poi Max ti faccio parlare nel prossimo podcast volevo chiederti Bubo allora questa è la è la è la maratona giusto che tu hai fatto quest'anno sì cioè hai fatto questa qui e basta quindi l'allenamento era tutto finalizzato a questa c'è Luca però stai facendo domande su risposte di cui abbiamo già parlato esatto hai già detto che ne farà un'altra e di chi li se ne farà un'altra hai detto che la prima la torre e di chi li se la prima tra l'altro ci scusiamo con i nostri ascoltatori le decine di migliaia dei nostri ascoltatori fare il nervoso con l'audio che gliccia e con una tavoletta lì di cioccolato milka appoggiata alla bocca è qualcosa che non si può vedere c'ha pure l'iPhone dello stesso mio colore una roba incredibile no perché mi stavo chiedendo io appunto quando ho fatto il primo evento dove ho fatto l'allenamento ho finalizzato tutto all'evento di aprile eccetera la settimana successiva con lo spazio fase no no non era quello era quello qualche anno dopo poi mi son detto cavolo però adesso non voglio perdere l'allenamento cioè non voglio perdere tutto il lavoro fatto nei mesi scorsi che vuol dire non è che dici vabbè oggi siamo all'8 dicembre all'1 gennaio ricomincio e intanto faccio tre settimane in pausa Gian Gian dimmi Giovanni Gian 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 questa è la differenza tra noi e te noi ieri sera ci siamo fatti i quattro gintoni la sera del tuo primo evento hai mangiato una cotonetta di pollo capito foto allegata si tra l'altro ho mangiato una cotonetta di pollo pensando a te che dovevi fare la maratona no scusate scusate i gintoni che erano 5 per cortesia li ho sentiti tutti è vero quindi volevo capire adesso siamo anche entrati i vestiti scusa Gian siamo entrati i vestiti da maratona ad attacco bell subito dopo no però quello che mi chiedevo era adesso tu hai fatto vabbè ieri l'altro ieri c'era la maratona oggi ci sta ho arrivato il sushi scusate ho arrivato il sushi andrà ad aprire perché la Chiara sta asciugando i capelli alla ceci continuate voi tre minuti poi ritorno va bene fantastico ti spiace no no che almeno non c'è l'auto che gliccia no però mi chiedevo Bubo adesso cioè tu vabbè ieri ti sarai riposato oggi ancora stai smaltendo insomma la corsa però parliamo e il gintoni e il gintoni questa settimana ci sta che tu te la prenda di riposo però la mia domanda è ma lunedì prossimo o comunque la settimana prossima cosa fai? cioè ti continui continui a fare questi tre allenamenti magari in forma leggermente ridotta perché tu lo sai che se tu adesso non prendi la palla al bazzo tra due settimane incominci pian piano a calare no Gianna ho già chiamato Bruno mi hai visto hai visto eccolo là eccolo là mi è entrato nel tunnel però posso dirvi che state sbagliando mi permetto di dire che state sbagliando nel senso che come ha detto Giovanni forse le prime sono anche guidate dall'entusiasmo dalla scoperta della novità ma non divertirsi più e dedicarsi solo all'allenamento anche staccare due tre settimane poi ti permette di ripartire con più entusiasmo con la voglia di correre di più e anche sentire meno la fatica perché hai una voglia diversa di correre di fare gli allenamenti il mio punto di vista è arrivi all'evento invece poi ti meriti un po' di riposo anche di fare dell'altro e poi piano piano riprendi che comunque l'esperienza che acquisisci nell'evento ti garantisce anche la possibilità di riprendere più in fretta ad essere competitivo e lo stato di forma che avevi prima questo è il mio punto di vista condivido perché infatti l'idea è questa con Bruno ci siamo sentiti brevemente ieri dopo l'evento a caldo l'entusiasmo di averla finita è stata sicuramente una cosa che è stato molto molto bello condividerla con lui il periodo di pausa c'è sicuramente ma non voglio arrivare diciamo nelle feste natalizie che non ho più fatto niente perché se no se non fai niente fino a Natale e ti diverti a Natale con tutte quelle che sono le conseguenze delle abbuffate non riparto più allora è nonostante che un tubo non sia uno al quale piace bere e mangiare mi sembra no diciamo che nel da ieri quando è finita la maratona a stasera ho mangiato quello che durante l'allenamento mangiavo in cinque giorni perché ci ho dato dentro come non so che cosa ragazzi c'è una cosa tutto quello che è giusto così è giusto così sì sì certo ma quello ci sta poi soprattutto alla fine del raggiungimento dell'obiettivo eccetera anche perché psicologicamente ti serve a dire ok adesso per non so le prossime tot giorni settimane ore posso fare quel che voglio però è come dici tu è è veramente incredibile perché quello è l'inizio è l'inizio dove poi dici vabbè no ma mangio quei 100 grammi in più vabbè ma prendo quelle due tre robe in più e poi da lì non te ne accorgi più quindi è comunque una cosa Gianni io non sono dal pesare il grammo come fai tu no ma no no io proprio sono da orca il gin tonic me lo faccio sabato sera o giovedì sera no corro un po' di più corro un po' di più e allora lo faccio me lo bevo sabato sera insieme agli amici Gianni scusami puoi mettere la mia la mia immagine vicino a loro perché non mi sento più adeguato ad essere qui con te voglio stare con loro perché è esattamente quello che penso anch'io mi scuso se riorganizzo gli spazi non puoi darti dei premi oh finalmente oh non puoi darti dei premi quando finisci una manifestazione ma anche mentre ti alleni non non è veramente sfidante e complimenti a te però psicologicamente è dura senza avere un minuto di soddisfazione no io sono d'accordo ma no no ma sono d'accordo con voi il punto è che poi magari la percezione che c'è dall'esterno magari di quello che faccio è quella vera nel senso che tu non sgarri ma non è vero ma si era mangiato la bresaola in diretta scusi però ieri mi sono mangiato tre due righe di cioccolato milca ieri sono andato a fare un brunch e lì ho sfasato sai che due righe di cioccolato milca le mangio tra il frigo e la dispensa dei biscotti per non andare in calo di zuccheri tra un maxibon e le gocce di cioccolato eh vabbè va lì vabbè ma poi sai va anche in base al fisico e alla persona cioè io per i miei parametri esatto quelle due righe lì magari è come per te non andare in calo ragazzi questa ve la devo raccontare perché ieri col Gio abbiamo vissuto una cosa troppo bella finiamo la gara arriviamo attacco di fame raccontassi alto scusa Bubo continua per un attimo dopo ve lo racconto figuriamoci attacco di fame entriamo da Burger King che non ci servono cambiamo posto andiamo ad attacco Bell casse automatiche praticamente il il taco che preparano loro il burrito sconnetto era troppo piccolo cioè l'immagine non rendeva la fame che avevamo addosso abbiamo preso una cosa ho trovato una persona che mangia più veloce di me Giovanni vi assicuro che ha finito prima di me mangiare io non ho mai trovato nessuno che mangia più veloce di me e Max ne sa qualcosa andiamo alla corsa una cosa incredibile sembravamo due poi tutti vestiti nel maratone con dei profumi incredibili però con la medaglia con la medaglia tutti e due qui attaccata che avevamo praticamente il free pass per andare in qualsiasi locale e qui mi riaggancio rispetto a quello che dicono gli ultra cyclist che quando devono mangiare vanno in un McDonald's perché sanno che c'è un certo tipo di cibo che te lo danno velocemente che è caldo e che non hanno dubbi poi rispetto alle conseguenze se lo provano lo mangiano prima e sanno come non come le banane di Gian quando fa scusate Giovanni anche tu anche tu hai pensato alle banane quando ieri ancora eravamo in maratona a Gian perché io mi sono immaginato no se mangio la banana mi succedo come a Gian no mi sono mi ero sforzato di non pensare a Gian durante la fatica per non rendere la cosa veramente insopportabile quindi grazie a Dio no ok avvicino al microfono meglio così madonna vado a riniziare il podcast a capo allora adesso siamo passate le 19.30 siamo in fascia protetta quindi posso raccontare andate a leggere i bambini vi prego scusa 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 Giovanni scusa se ti interrompo aspetta fermi c'è il pezzo musicale dici Giovanni erano già quattro i pezzi questo è il quinto hai anche capito che mi è arrivato il sushi devo mangiare si raffredda si raffredda il sushi i noodles si per Dio finisco per darvi buon appetito raccontandovi perché io e il bubo ci siamo separati a parte che lui andava più forte fino al chilometro 15 l'abbiamo fatta insieme dopodiché io mi sono fermato per delle impellenze in un cesso chimico e poi ho dovuto arrangiarmi in qualche modo per la legione personale non provvedendo l'organizzazione splendida di Valencia a mettere delle salbettine deumidificate nei cessi chimici che cosa bravo Gian e con questo vado allungere il sushi scusa lezione di vita però hai sempre con i fazzoletti bravo bravo tanto pesano due grammi l'uno cioè meno di un varia sicuro ma no il ragionamento è stato quando corro da solo li porto sempre ho detto vabbè sono organizzati sarà che la carta invece è diet capito va bene vado a mangiare il sushi perché sento il rumore dei piatti sottofondo e adesso Gian a te mettere a posto i pezzi senza sì esatto esatto grazie Scusa Gian grazie a voi Gianluca Gianluca già che intanto hai tempo libero da sbattere via gli accessi ad Anchor ce li hai non puoi anche pubblicarlo sto cazzo di episodio no lì hai tu le password e non le voglio grazie te le ho date per guardare le statistiche non le voglio non le voglio le ho dimenticate ciao a tutti grazie Bubo alla prossima ciao ciao Gian 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 Gian